Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai Suoi discepoli Chiamati a sé i Suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei dodici apostoli sono primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il Pubblicano, Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo, Simone il Cananeo, e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i dodici che Gesù inviò ordinando loro. Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele, strada facendo, predicate, dicendo che il Regno dei Cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Parola del Signore Riprendiamo con oggi il cammino delle Domeniche del Tempo Ordinario. Ecco, e quindi riprendiamo la lettura continua del Vangelo di San Matteo. La riprendiamo da un momento importante, quando Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione. È molto bello questo sguardo di Gesù sulla folla che lo cerca e che è sfinita, che è stanca, come pecore che non hanno pastore, dice il Vangelo. Ha bisogno di speranza, ha bisogno di forza, ha bisogno di luce per il suo cammino, proprio come noi. E allora Gesù che cosa fa? Gesù manda i suoi discepoli. La messe è molta, gli operai sono pochi. Pregate, pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe e manda i suoi dodici, i suoi apostoli. Li manda dando potere sugli spiriti impuri, su ogni malattia e infermità, per combattere il male e per portare il Vangelo. Ecco, gratuitamente, questo è molto bello, la parola finale del Vangelo di oggi, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Il Vangelo è un dono che immeritatamente, senza alcun nostro merito, appunto, noi abbiamo ricevuto. Abbiamo ricevuto il dono dell'amore di Dio, abbiamo ricevuto la buona notizia, Vangelo vuol dire appunto buona notizia, e allora tocca a noi, tocca a noi adesso portarla a tutti, portarla con, come dice San Francesco, con la nostra vita e se occorre anche con le nostre parole. Portare il Vangelo non è tanto fare delle prediche, fare dei discorsi, portare il Vangelo significa vivere quello che Gesù ha detto, la vicinanza a chi soffre, il sostegno a chi sta lottando contro il male in tutte le sue forme. Non siamo soli, c'è Gesù insieme con noi, se noi ci crediamo, se anche noi condividiamo quello sguardo di compassione sulle folle. Chiediamo al Signore che non ci faccia mai mancare operai per la sua messe, che non sono solo i sacerdoti, i religiosi, le religiosi consacrati, certo, ma anche laici, tante persone credenti credenti che però sentono nel cuore questo desiderio che tutti incontrino il Signore. Diceva Madeleine del Brello, una grande credente del secolo scorso, il cristiano o è missionario o è dimissionario, che possiamo tutti essere dei veri missionari, che possiamo tutti annunciare il Vangelo con la nostra vita. Diceva Madeleine del Brello, Diceva Madeleine del Brello,